Gentili telespettatori, buona giornata. La Schlein che va proprio oggi in un convegno al Festival dell'Economia di Trento, quindi piuttosto che andare in Emilia Romagna va a Trento e racconta che lei non è mai stata assessore all'ambiente, ma lei era al welfare con la delega al patto per il clima, praticamente nega le sue responsabilità in Emilia Romagna. Ma sul suo sito, come vi dicevo nel video precedente a questo, c'è scritto chiaramente che il patto per il clima è il coordinamento interassessoriale delle politiche di prevenzione, politiche di prevenzione, adattamento ai cambiamenti climatici per la transizione ecologica. Ma lei dice io non centro niente, non centro niente. Ecco, però, quindi, a Trento lei si giustifica, io non centro niente, ma parla di aumentare le tasse in Italia. Dice così, per riuscire a rendere più equo e progressivo il sistema, bisogna fare degli interventi. Sistema fiscale più equo e progressivo, più progressivo. Oggi è già progressivo come vuole la Costituzione. Dobbiamo aumentare la progressività. La tassazione alle imprese e sul lavoro va ridotto. Quindi diminuisci le tasse alle imprese, diminuisci le tasse alle persone. Fin qui può anche andar bene ridurre le tasse, anche se il ridurre le tasse è una parola vuota. Perché siamo tutti bravi, eventualmente in politica, a dire tu ridurre le tasse. 92 minuti di applausi, no? Come fantozzi, no? Ridurre le tasse è una frasetta che può dire chiunque che però, se tu non dici come riduci le tasse, le tasse dove poi sostituisci quei soldi, quella tua frasetta non vale niente. Niente ammiscato con niente, come dicono in Sicilia. Niente mescolato col niente. Ma, mentre tu riduci le tasse alle imprese e ai lavoratori, devi aumentare le tasse sulle rendite fiscali e immobiliari. Perché è così bassa. Si può dire? Si chiede lei da sola, no? Si chiede da sola. Non possiamo negare che siamo il paese con la tassazione sulle successioni più iniqua e bassa. Si può dire o no? A parte che, quando uno muore e lascia in eredità qualcosa, soldi, sono beni o denaro che è stato già tassato. Quindi, se voi lasciate 5.000 euro ai nipoti, che facciamo? Tassiamo quei 5.000 euro che sono il risparmio che era già stato fortissimamente tassato. Ma i sinistri dicono, ma in tutto il mondo, in tutto il mondo, in tutto il mondo tassano le successioni. Ho capito. E in tutto il mondo sbagliano. Perché l'unica cosa che non dovrebbe essere tassata sono proprio i soldi che faticosamente hai messo da parte dopo deliranti tassazioni. O comunque, negli altri stati, che hanno delle tassazioni sulla successione alta, però non hanno una tassazione alta durante l'arco della vita. Ecco, la nostra è già fin troppo esagerata come tassazione. Oggi fare impresa in Italia è eroico, eroico. Di 100 che tu fatturi, che incassi, se ne va via il 70-80%. Quanto ti rimane poi tolto il costo del materiale, eccetera? Ti rimane il 5% di quello che fatturi, che quello che vendi. Si può lavorare, vendere 100 e rimanere 5? No. Per questo che è eroico lavorare in Italia con una impresa. È eroico. Poi, con quella ricetta, è aumentare le tasse. La tassa di successione, tassare le rendite finanziarie, è che poi, parliamoci chiaro, ma oggi dove sono ste cavolo di rendite finanziarie? Che la borsa va sempre male, ormai da decenni che va al contrario. Quindi investire in borsa è molto probabile che tu i soldi li perda una gran parte. Non è più momenti di grande euforia nelle borse. Quindi, tutte ste rendite da investimenti, dove sono? Dove sono tutte queste rendite che tu puoi avere? Quando addirittura i titoli di Stato vanno anche in negativo, cioè tu paghi per metterli in titoli di Stato. Però, aumentare la tassazione delle successioni, aumentare la tassa sulle rendite, in buona sostanza aumentare le tasse a quelli che hanno delle rendite, perché se hanno delle rendite, comunque sono persone abbienti, sono persone che non fanno fatica se hanno delle rendite immobiliari o fiscali, e allora aumentiamo le tasse ai ricchi per dare a quelli che hanno poco. Dice, i conti devono tornare, quindi progressività e redistribuzione. I conti devono tornare, ma probabilmente sarebbe meglio far tornare i conti mettendo un salario minimo. Ecco, l'unica cosa che avrebbe dovuto dire intelligente era quella del salario minimo. Infatti, io sono sempre stato d'accordo sul salario minimo, ma vedo che non lo ha neanche nominato, non lo ha neanche nominato il salario minimo. Come mai? Forse perché ha scoperto che una gran parte degli imprenditori italiani votano per PD? E se parli di salario minimo, se parli di salario minimo, magari l'imprenditore non ti vota più con tutta la famiglia, non ti votano più? Perché lei dice abbassare le tasse alle aziende e ai lavoratori. Però non ha più parlato di salario minimo. E qualcosa mi suona strano se non parla più di salario minimo. Sarà mica che è diventata proprio ossessionata dai sondaggi? quindi non andare contro nessuno perché poi non ti votano? Invece bisogna raccattare voti? Comincia a venirmi un leggerissimo sospetto. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie. Grazie.